Oggi volevamo porle alcune domande in base alla sua carriera, in particolare la nostra prima domanda è come è andata e come è cambiata la città di Milano nel suo periodo ad oggi, negli suoi successori? Buona parte dei cambiamenti in corso sono nati nel nostro turno di guardia, parlavo poco fa dei 30 miliardi di investimenti nella nuova urbanizzazione di Milano con i più grandi architetti del mondo che stanno costruendo edifici che saranno certamente ricordati nella storia dell'architettura moderna, ne cito uno per tutti, il Palazzo Lombardia è stato premiato da una giuria di Chicago che ogni anno dà il premio al Grattacero più bello del mondo, nel 2012 ha vinto questo premio e così vale per i 30 miliardi diffusi sui vari spazi post industriali o post servizi, un esempio per capirci, l'ultima guerra ha creato macerie fisiche, nel senso proprio demolizioni per 3 milioni di metri quadrati, il post industriale e il post servizi, la fiera che ha dovuto trasferirsi all'esterno è un post servizi, l'area urbana della fiera è rigenerata, vedete le torri, la metropolitana, il parco, quello che sta avvenendo. Ecco, 11 milioni il rapporto, il post industriale ha fatto dei varchi nel tessuto urbano, quello che sta avvenendo è nato nel nostro turno di guardia e sta producendosi ora, in una fase ciclica purtroppo negativa dell'economia e quindi una differenza che colgo è quella che cogliamo tutti, che negli anni della nostra responsabilità abbiamo certamente sfruttato a pieno le privatizzazioni per esempio che ci hanno consentito di avere degli ingenti capitali per trasformare patrimonio con patrimonio, abbiamo speso 6 miliardi di Euro in opere pubbliche senza aumentare le tasse, i cittadini di Milano non hanno avuto neanche l'addizionale IRPEF dal 98 fino all'attuale amministrazione, sono 120 milioni all'anno di risparmio, non abbiamo dovuto intervenire sulla fiscalità perché i ricavi dalle privatizzazioni oggi con una crisi generalizzata anche se si mette in vendita come hanno provato a fare, si trovano pochi acquirenti. Però su uno scenario posso esprimere una critica nei riguardi dell'attuale amministrazione, la Giunta Moratti aveva, forse la cosa migliore che ha fatto era il piano generale del territorio, con la possibilità di trasferire le volumetrie edificabili da un posto all'altro, dove non ci fosse un interesse economico a quell'area, poteva essere ceduto ai servizi sociali a destinazioni non profit quella volumetria e trasferita in un altro luogo della città dove invece avesse questo significato, il che avrebbe consentito uno sviluppo dell'investimento urbanistico che un'amministrazione retta e corretta avrebbe potuto comunque controllare sia nella qualità delle costruzioni sia nella correttezza delle procedure e ha invece fatto una scelta che ha impedito al Comune di ricevere potenzialmente circa 70 milioni di Euro di oneri di urbanizzazione con cui avrebbe potuto provvedere alle necessità della città, ma sono stili diversi di comportamento, poi magari il cavallo non avrebbe bevuto, ma almeno ci sarebbe stata l'acqua. La nostra seconda domanda è invece, da milanese come ex sindaco, cosa pensa che l'Expo potrà essere una grande occasione per la nostra città e anche cosa ne pensa dei fatti accaduti sui giornali negli ultimi giorni? Cercherò di essere più breve rispetto all'altra domanda a cui ho risposto in lungo tempo, allora senz'altro penso bene perché tutti gli interventi che ho descritto anche prima sull'area circonvicina, la città, la pedemontana, le tangenziali, le metropolitane, tutta l'area infrastrutturale e trasportistica è valorizzata da questo evento e ha accelerato i processi decisionali e anche l'acquisizione di capitali pubblici e privati per realizzarlo. Per quanto riguarda i sedime in cui si svolge l'attività, l'investimento è più modesto ma si sta profilando un'utilità anche successiva per valorizzare le costruzioni che serviranno per l'Expo ma potranno essere destinate ad altre funzioni pubbliche successivamente. È una grande opportunità perché non ci saranno forse tutti i milioni di visitatori perché internet, i media, tutto il sistema che oggi funziona è che dieci anni fa per esempio non era così sviluppato cambia la realtà, cioè per conoscere le cose non è necessario andare sul posto, però certamente darà un grande impulso. Su quello che sta avvenendo meglio che si intervenga sul tumore quando è un polipetto piccolo piuttosto che quando si è esteso a tutto il corpo è diventata metastasi allora implode il corpo nel suo insieme per un tumore che non è stato fermato prima. Sono necessari dei controlli interni per evitare che si ripetano fatti del genere. E la nostra ultima domanda invece, pensa che la pedemontana possa essere un valore aggiunto per la viabilità del nord Italia e Marpensa riuscirà mai a essere davvero quel lab che aveva immaginato nel suo periodo. Dunque parto da questa seconda situazione, ricordo che pochi giorni prima dell'inaugurazione il 25 ottobre del 98 di Marpensa venne il Presidente del Consiglio Prodi a Milano e lo incontrai in Assolombarda e lì gli dissi papale papale, allora dal 25 ottobre l'Italia avrà un solo hub e sarà Malpensa, siamo d'accordo? E lui saltò sulla sedia e mi disse ma cosa stai dicendo? Com'è possibile pensare che Fiumicino debba diventare un lumicino? Questo lo dico io per fare rima, ma insomma mi fece capire che era una richiesta assurda, non sarebbe mai stato concepibile una concentrazione solo nel nord, peraltro lo sviluppo che in seguito ebbe Malpensa prima della crisi all'Italia e di altri scenari contrari avrebbe giustificato una scelta coraggiosa, ma i vincoli, sia il fatto della compagnia di bandiera che allora non era ancora privatizzata, sia l'esistenza di forti pressioni sindacali per lasciare tutta Roma portarono a questo effetto. Ora, due hub non ce li ha neanche la Germania, non ce li hanno neanche i paesi più grandi di noi e quindi la cosa non funzionerà purtroppo, perché si doveva scegliere tra Roma e Malpensa. In più la mancata privatizzazione di SEA, e qui fu un vincolo che mi impose la maggioranza, non riuscì a sbloccarla, ha condizionato anche lo sviluppo delle infrastrutture territoriali di Malpensa con il risultato che abbiamo delle situazioni che non sono ottimali dal punto di vista dell'Italia, quindi sono un po' pessimista su questa posizione. Sulla Pedimontana non ho niente da dire, nel senso che ci sono state delle polemiche, il mio successore si è dichiarato contrario, io mi sono dichiarato fin dall'inizio favorevole e penso che sia un'opera senz'altro utile, che possa comunque fluidificare il traffico in un luogo dove le merci e le persone si muovono con intensità e con la necessità di poterlo fare con infrastrutture adeguate. Va bene, grazie. Prego, grazie a voi. Grazie.